Marten Deron, l'Atalanta è pronta per affrontare il Bayern Leverkusen tenendo conto che questa qualificazione passa da due partite, quella del Gevi Stadium e quella della Bayern Arena. Dobbiamo essere pronti con tutta la squadra, vogliamo reagire anche alla sconfitta sabato scorsa e adesso è importante per noi soprattutto in casa di fare un risultato, certo si gioca due partite, la qualificazione si gioca lì, però se possiamo andare lì con due risultati in mano sarebbe il massimo. Insomma ripetere quanto fatto con l'Olimpiakos anche se qui si parla di un avversario con tutto il rispetto per i greci di un altro livello? Abbiamo analizzato già un po' il Leverkusen che è una squadra forte con tanti giovani, tanti talenti che hanno una velocità molto forte e sarà una sfida dura però noi dobbiamo credere noi stessi e giocare con fiducia che abbiamo sempre fatto e così possiamo fare un risultato contro chiunque. Superata la battuta d'arresto rimediata in campionato lo scorso sabato a Roma? Sì, 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 certamente ovviamente che secondo me reagiamo sempre molto forte anche nei periodi più difficili e adesso è un momento un po' delicato, difficile però come abbiamo fatto lì in Grecia siamo sempre in grado di giocare bene, di fare il nostro calcio, di fare i gol e questo è importante per noi, dobbiamo ritrovare un po' la fiducia, giocare bene e credere in noi stessi.